bella ah ce l'ha fatta serve una granata aspettiamo loro c'è il bandit c'è il bandit vai 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 bandit morto bella giulio bella giulio bella giulio bella giulio madonna vi abbiamo salvato una partita i romer i romer signori ora ci ammazza tutti vabbè allora io mi giro io mi giro sto girato va bene no ma la tutti alla testa di johnny siete pronti ma ci incontro questo è l'unico da forte è l'ingaggio doc mi spari una siringa doc mi spari una siringa per favore se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà da tu prendetelo bestia prendetelo io come lo killano esco fc bo per i cani vai le bestia o la coprivate la tua posizione è stata comprometta nitro in posizione e esci drone distrutto esci dammi dammi dove sei ma un attimo ma sei la il drone è attivo ma sei la ma sei la ma sei la ma sei la ma guarda mi cucina eh lo sta guardando l'altro dai che guarda qua la zona di col drone sotto di te posto è servicciato l'ares e l'ares ce l'è uno dietro a scudo che è da garage scendiamo 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 aiutate coprini il culo l'ares attenzione 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 aiutate attenzione ti serve ti serve sai ti serve ah non ti serve Grazie a tutti 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 Grazie a tutti